il bante e la sbozzata 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 accorciate la mazza e toccate la palla schiacciandola per terra per forza il bante e la sbozzata in terza ovviamente chiederò di fare un bante perchè ci serve per forza ok? cerchiamo di stare attenti palla persa da qualsiasi interno io voglio gli esterni dietro che marchino stretto all'interno eh? gli esterni giocano in seconda tranne l'esterno sinistro che gioca in prima destro che gioca in prima cerchiamo di fare un out per volta non ci mettiamo a cercare di fare dei doppi dei tripli che non serva a niente prendere e tirare e tirare in prima perchè dopo tre auto ci facciamo non so se riuscirà a arrivare in seconda è stato eliminato una sola volta nel senso perchè? perchè lui quando corre non corre lui cammina non so se riuscirà e non so se riuscirà va bene io le pacchetto è traurata eh mi piace Vieni per 6 anni fa ancora truccare E' davvero? Si arriva a te E' di un po' di senso Non è poco Ferma, Ferma, Ferma bravo porta un bel rullo un bel mi fa insta bene grandi dici siete alla Sè sono patti fuori dai no ciao scuoli, bambini piccoli sono piccoli in caso piccoli bambini piccoli economy piccoli cai sai lanna stoi siete Sono in gira poi, bene bene bene. Nooo! Dai Luca! Dai forse le cavalli. Ma è una c***a Raffaele? Nooo! Sono arrivati due latti, sono arrivati adesso, ma sono abbastanza buono. Ma è vero che l'hanno buttato nei cassonetti? No, no. È una leggenda! Lei l'ha sempre fatto qui. Figlia piccola. Dai! Fuori prima della base? Dai Gabri dai! Dai! Fermo lì! Via! Via via! Fuori! Si è toccata, dai! È toccata! Ciao! 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 Sto innesso direttamente qua! Ah, e Lele posso farti una nuova? Io sono te! Ciao! Oh, mi dai un'altra cascata? Non lo so eh! Dai ragazzi! Su! Su! Sì! 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 Allora, questo è giunco? No! 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 Una balla quella lì qua. Aspetta! Sì! 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 Vai! Fermori! Fermo! Fermo! Tocca la base igiotta! No! No! Lascialo così! Ti ruba la fre**a! No! Proffa! Poi da di stapo. Non mi sono piattrati! Gira Luca, gira! Fai casino, fai casino, fai casino! Brava, brava, brava! Vai, vai, vai! Venga, venga, venga! Vai, vai! C'è un suggeritore, tutti! Poi entra nel lato e non capisce qui niente! E' un suggeritore! Eh? E' una buona misura, quando sei là è un... Provine! C'è un suggeritore! E' un suggeritore! E' un suggeritore! E' un suggeritore! No, no, no! Vivec! Il prossimo, eh! E' un suggeritore! E' un suggeritore! E' un suggeritore! Boss, che tocco a battere! Chi era l'ultimo che è andato a battere? Chi è stato l'ultimo a andare a battere? Chi è stato l'ultimo a andare a battere? Io, io, io! Allora, Lucchino, allora! Franco fuori! Quindi Vinotti fuori, Marianna! Entri! Giocherà e battelo! Ah no! Il posto di Vinotti! No! 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 Acqua! 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 Gatorade! Energate! bravo la foto a tutti assieme